Il corpo umano è il Tempio di Dio, è stato edificato da Dio stesso perché contenesse il Suo Signore, lo Spirito. Ma i due servi, la mente e i sensi, ne hanno preso il posto. E' come se i servi di un palazzo ne diventassero i padroni e il Signore del palazzo venisse messo da parte. Questa è appunto la, si potrebbe dire addirittura comica situazione. Di un nobile che è stato usurpato, il cui palazzo è stato preso in custodia da quelli che dovevano essere i Suoi servitori. C'è una commedia divertente che si intitola appunto la serva padrona. Era una serva che era diventata padrona nel posto dei Suoi Signori. così per poter raggiungere l'autentica conoscenza dobbiamo rimettere le cose a posto, per così dire. lo Spirito deve di nuovo acquistare la padronanza dell'intero palazzo. Allo stato attuale i sensi dominano incontrastati e la mente schiava dei sensi. e lo Spirito assolutamente dorme un sonno simile alla morte. così una volta un giovane chiese al Maestro in che modo possiamo realizzare la conoscenza di Dio. il Maestro disse attraverso il silenzio. Ecco allora questo giovane si ritirò in un luogo il più silenzioso possibile. andavo a meditare in una foresta. ma anche lì c'era il fruscio del vento, il cinguettio degli uccelli, lo scorre di torrenti in mezzo al bosco, per cui non c'era l'assoluto silenzio. e allora andò dentro una grotta, ma anche in quella grotta dei gufi avevano fatto il loro nido. e quindi non c'era il silenzio che lui cercava. e allora c'era una vecchia torre. quando andò in quella torre chiuse porte e finestre, c'era il completo silenzio. ma la sua mente continuava a vagare nel passato e nel futuro. non riusciva a trovare quiete e conoscenze. e allora tornò dal maestro e gli dice maestro, io sono andato nei luoghi più silenziosi, però non sono riuscito a trovare Dio. c'era un silenzio assoluto, ma Dio non appariva. disse il maestro, ma io non intendevo il silenzio esteriore, ma silenzio interiore. dobbiamo mettere completamente a tacere sia i sensi che la mente. quando essi si sono acquietati, allora lo Spirito Divino si rivela. così ci sono miriadi di vie che cercano di raggiungere questo scopo. purtroppo non è facile dominare i sensi e la mente. in particolare la mente ha mille ramificazioni. c'è un maestro che è rappresentato mentre suona un flauto. e con questo flauto domina un grande dragone con tante teste. il flauto è la parola interiore, è il suono divino, la vibrazione cosmica. e il dragone è la mente. l'unica cosa che può acquiettare la mente è la parola divina. quando questa parola vibra dentro di noi, allora le vibrazioni mentali vengono acquiettate. c'era una volpe che parlava insieme a un gatto. e la volpe lo dava alle sue capacità e diceva. io sono considerato il più scaltro di tutti gli animali e nessuno mi può superare in questa qualità. me la so cavare in tutti i frangenti. e tu chiedi al gatto che virtua è. e io ho delle unghie così acuminate che mi possa rampicare con grande rapidità su per gli alberi. eh ma è una cosa che conta veramente poco questo. diceva la volpe che senso ha rampicarsi sugli alberi. ecco che non aveva ancora finito di pronunciare queste parole che si sentirono dei corni di caccia che si avvicinavano minaziosamente. era in corso una caccia alla volpe. il gatto agilmente si era ampicosto per un albero che c'era lì vicino. la volpe si è messa a correre con quanto fiato aveva ma c'erano dei cani da caccia velocissimi che in pochi istanti la raggiunsero. e la pelliccia di questa povera volpe andrò, nonostante la sua astuzia, a adornare il collo di una signora. così ci sono tante vie a questo mondo e ognuno ognuno la loda la via che sta seguendo. ognuno crede di essere sulla via maestra, ma maggior parte delle vie conducono poco distante. non sono in grado di fare il silenzio nella mente e nei sensi. ci sono vie basate su canti, danze, rituali, ragionamenti mentali, esercizi fisici. quando i sensi e la mente sono così impegnati, com'è possibile che lo spirito si riveli? la meditazione più elevata esige la quiete completa e l'immobilità proprio assoluta. dei sensi e soprattutto della mente. quando sensi e mente sono assolutamente silenziosi allora il padrone del palazzo si ridesta al tocco della luce e del suono divino e del suono divino e largiti dal maestro e riprende le redini della meravigliosa casa costruita da Dio. allora finalmente torna ad acquistare la libertà perduta. è stato prigioniero per eoni finalmente con la grazia del maestro trova la via verso la liberazione. anche la via è antichissima ha assunto nomi diversi attraverso il tempo ma la pratica è sempre la stessa. così è stata chiamata la via dei maestri oppure la via dei maestri perché perché si appresta a diventare veramente una pratica estesa a tutti gli abitanti del pianeta a diventare veramente universale. così si sta preparando appunto un'epoca nuova in cui la meditazione sarà la scienza principe da cui deriveranno tutte le altre scienze perché se non c'è la conoscenza dello Spirito gli uomini sono immersi nella più totale ignoranza così così si citano filosofi si citano grandi scrittori grandi per la gente naturalmente si citano persone che avevano tante lauree ma mancava loro la laurea principale la laurea in spiritualità è l'unica laurea che conta le altre non servono a nulla praticamente ce ne andiamo ignoranti come quando siamo venuti così così questa meditazione universale è la scienza principe dell'età dell'oro che si prepara perché dà una conoscenza che è davvero senza limiti ci fa conoscere il principio da cui deriva tutto quanto esiste quando abbiamo conosciuto quello e conosciuto lo Spirito che è in noi non rimane nient'altro da conoscere così abbiamo la fortuna di avere a nostra disposizione questa scienza universale la meditazione più elevata che l'essere umano abbia mai praticato è solo attraverso questa conoscenza che si può costruire una società completamente nuova perché come il muro è fatto di tanti mattoni così una società è fatta da tanti individui senza gli individui perfetti non si può costruire una società perfetta quindi abbiamo davanti a noi questo compito è auto-perfezionarci in modo che questa nuova società tanto attesa possa veramente venire ognuno deve considerarsi come un mattone un mattone di questa città meravigliosa in cui conoscenza, amore, beatitudine imperano incontrastati e quindi dobbiamo innanzitutto costruirla dentro di noi il grande maestro Chirpelsing ci ha lasciato in eredità un foglio che riassume l'intero scibile foglio del nostro diario dobbiamo con grande sincerità andare a vedere che cosa ci manca per entrare nella nuova Gerusalemme e darci da fare abbiamo tempo davanti per raggiungere questo traguardo perché di fronte al diario ci siamo noi noi e il diario non c'è nessun altro perché al giorno d'oggi la gente cerca di apparire ma davanti al diario siamo veramente quello che siamo e quindi di fronte al nostro diario dobbiamo andare a vedere quali sono i nostri punti deboli e cercare di eliminarli per eliminare i nostri punti deboli vivendo ancora nel Kali Yuga ci vuole grande attenzione se prestiamo attenzione alle miriade di illusioni che porge il Kali Yuga non potremo mai entrare nella nuova era perché saremo sopraffatti delle miriade di illusioni che quest'epoca che sta per finire porge alla mente umana tutte queste felicità illusorie dobbiamo lasciarle a coloro che non sono pronti a un salto del genere che non è pronta a nascere di nuovo dice appunto il Cristo non può entrare nel Regno di Dio dobbiamo creare l'uomo nuovo dentro di noi allora il Regno di Dio discenderà dal cielo immediatamente e il premio qual è? è la felicità tanto agognata che il nostro spirito va ricercando nelle strade illusorie di questo mondo da lontane epoche quindi quindi il mondo esterno diceva Kirpal Singh in quest'epoca di Kali Yuga il mondo esterno che ci circonda è avvelenato è come è come è come cibo avvelenato quando andiamo in giro dobbiamo essere concentrati interiormente e mantenere la rimembranza del Maestro sempre in qualunque attività noi svolgiamo allora tutti i nostri lavori riusciranno anche meglio mantenere questa gioia interiore di avere di avere il Maestro sempre con noi ma naturalmente occorre che la nostra attenzione sia sempre concentrata interiormente che non vada all'esterno a posarsi su le miriadi di surrogati dell'autentica gioia che l'uomo ha costruito attraverso in particolare questi ultimi decenni decenni in cui addirittura è stata costruita una realtà virtuale che cerca di prendere il posto della realtà reale ma non può riuscirci così nell'universo c'è una sola realtà la realtà divina tutte le altre realtà sono state costruite dalla mente e quindi quindi non conducono a nessun dove la realtà divina è lo spirito divino che si trova dentro di noi che è della stessa sostanza quindi questa è la realtà autentica nella quale dobbiamo appunto cercare di vivere e realizzare il contatto fra il nostro spirito è lo spirito universale allora tutto il resto ci verrà dato in aggiunta che